Sì, viste anche le condizioni che tu ben sai, Milane non poteva giocare, l'ho giocato due minuti, ma è un altro che gioca in condizioni precarie, è stato bravo a darci la mano in quei due minuti, abbiamo dovuto fare tanta zona che non è nel nostro DNA, giocare tanto con quintetti, con persone per il ruolo, secondo me è logico che una vittoria così per noi vale tantissimo ed è preziosissima, abbiamo ritrovato un Merchant di grande livello, di Bella molto bene, come ho detto spesso se di Bella gioca bene noi siamo una squadra di un certo tipo, comunque adesso è facile dire tutto bello, tutto bravo, quello che conta è che abbiamo vinto, non ci siamo mai disuniti, anche sono stati momenti di difficoltà, siamo sempre rimasti lì, ci siamo chiamati gli uno con gli altri per dire oh siamo in partita, oh stiamo giocando, dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci siamo e alla fine abbiamo avuto più voglia di loro di vincere. Rombaldoni sta giocando da superstar e oggi avrà fatto comunque 25 punti, non lo so, però Maio si è applicato, Maio come Petrucci, come Di Bella, come tutti quelli che hanno marcato a rigoni sui cambi, ci siamo applicati, lui ha fatto canestre difficili però, l'ultimo tiro sbagliato in pos basso e l'ultima difesa di Maioffoli col bel canestro che aveva fatto lui, sono un segno per me importantissimo.